e buongiorno a tutti e come voi sapete oggi è l'ultimo venerdì della spina santa venerdì di marzo che molto cara a tutti i giffonesi e nel nostro cuore e proprio oggi rinnoviamo l'invito a restare a casa come già abbiamo ascoltato in questi giorni pregando dalle vostre abitazioni e confinato nel signore e nella spina santa che ha donato a questa comunità soprattutto come segno di sicura protezione di fronte a tutti i mali soprattutto di fronte a questo grande male e a questa prova di continuare ad avere fede e rafforzare quella speranza perché il signore attraverso la spina santa ci possa benedire e proteggere da ogni forma di male da questo grande momento di prova e difficoltà quindi l'invito è io resto a casa e prego